Potrebbe avere uno più complice il giovane di 27 anni fermato nella notte per il duplice omicidio di Luigi Simeone e Immacolata Assisi. Lo ritengono gli investigatori che hanno chiuso il caso in tre giorni dopo aver visionato le immagini di alcune telecamere a circuito chiuso nella zona costiera di Giuliano. Infatti dai filmati emerge che il taxi sul quale viaggiavano le due vittime era preceduto lungo la strada da un'altra macchina. La ricostruzione di quanto accaduto è stata fornita nel corso di una conferenza stampa tenuta nella mattinata di oggi. Dallo procuratore della Repubblica di Napoli Nord Francesco Greco e dai funzionari di polizia che hanno condotto le indagini Pasquale Trocino del commissariato di Giuliano, Fabiola Manconi della Polizia Scientifica e Lucio Vasaturo della squadra mobile della Questura di Napoli. Ascoltiamo il procuratore. Data una risposta importante in brevissimo tempo, chiaramente l'indagine è tutt'altro che è conclusa, è una primissima fase. I temi da chiarire dell'indagine sono ancora tanti, ma la cosa che va sottolineata è l'ottimo lavoro che hanno fatto gli inquirenti e la sinergia completa che c'è stata tra magistrati assegnatari del procedimento e la Polizia di Stato, sia la squadra mobile, sia il commissariato di Giuliano, ma soprattutto anche la Polizia Scientifica, il cui apporto sicuramente è stato decisivo.